non non basta non basta l'inter che mi faccia incazzare no no non basta l'inter deve metterci pure l'italia per di più andr 21 perché ragazzi avremmo anche vinto 3 a 1 ma me han fatto girare i coglioni in una maniera impressionante impressionante ma non solo la squadra ma anche tutto in generale perché allora intanto che tu parti cioè anche anche nella partita contro la polonia l'ho visto un pochino ma oggi si vedeva chiaro e tondo che inizio partita ragazzi le gambette tremavano erano frenetici avevano fretta avevano voglia di far tutto e subito buttavano palloni in mezzo così a random e a me fa girare i coglioni perché se tu sei eravamo io mi ricordo io mi ricordo perché eri live ragazzi dava alex e mi ricordo i minuti l'ho ripetuto tre volte al al quinto minuto al dodicesimo e al quindicesimo minuto che ogni volta questi qua vedevi veloce veloce fai passa tutto in mezzo calmi è vero che dobbiamo vincere è vero che dobbiamo far tanti gol è vero tutto ma se tu giochi così con la tremalella facendo tutto di fretta non ne fai manco uno di gol e infatti fino fino al primo gol ragazzi era passato quasi un tempo cioè ragazzi avevamo fretta di fare le cose a me questa cosa già una roba che mi faceva incazzare perché con dei fretta di fare le robe dopo non ti vengono mai primo primo calmi si fa il fraseggio e si costruisce l'azione offensiva non che butte a caso da metà campo cioè infatti sbagliavamo di quei passaggi lunghi incredibili vabbè lasciamo perdere poi arriva il gol di barella su una doppia doppio tiro prima di destro mi pare poi di sinistro meno male meno male che ha sbloccato la partita quel gol meno male grande barellino mio e lì si va a supplementare su un 1 a 0 perfetto dopo c'è il gran bel gol di cutrone un gran bel gol di cutrone perfetto cutrone si sveglia perché all'inizio anche lui non ne combinava una giusta cutrone si sveglia inizia a proteggere palla bene a fraseggiare bene si muove buono buono sta andando bene sta andando bene perfetto cosa succede ragazzi al 79esimo prendiamo gol cioè sembrava il gol preso contro la spagna cazzo uguale con noi tutti con noi tirano così i gol speduli con l'angolino con noi li fanno ok ma poi mi ha fatto girare i coglioni perché eravamo messi male in campo eravamo messi male in campo allora c'era un un attaccante che era quello che dopo ha fatto il gol che aveva palla ok non c'era nessuno nella parte interna dove c'erano due giocatori nostri che erano vicino al portiere non so che cazzo facevano lì invece di aiutare quello che era nell'uno contro uno no vai dall'altra parte no in due insieme attaccati tra l'altro non è che erano uno qua attaccati insieme a fare cose i pali della luce no va bene ha mirato fastidio perché ragazzi c'è uno che gioca a calcio sacco comunque almeno la posizione un attimo in campo parca puttana c'è l'uno contro uno che non c'è nessun altro vai aiutarlo due cazzo vai dall'altra parte e no niente dobbiamo prendere per forza gol noi dobbiamo prendere per forza gol perché se non se non ne prendiamo almeno una partita non siamo non siamo contenti già lì è andata quando hai preso gol è andata il primo posto è andato nel momento stesso in cui tu prendi gol il primo posto è andato poi per fortuna c'è stato il gran bel gol di chiesa che non so il motivo si sono persi tipo due tre minuti per confermarlo che non so io ho visto all'inizio che avevano l'avevano l'avevano tolto il gol poi l'hanno rimesso io non ci ho capito un cazzo era un gol talmente semplice talmente regolare che non so che cazzo hanno visto per due tre minuti perché quando ho fatto vedere il replay del fuorigioco che non c'era cioè ragazzi si vedeva nettamente che era buono è cioè non so per due tre minuti che cazzo hanno fatto questi vabbè tre minuti perse a cazzo di cane va bene se sul 3 1 vabbè poi finisce ho preso anche un palo ragazzi già già siamo noi che all'inizio avevamo fretta se già siamo noi che se subiamo il gol ci si mette pure la sfortuna del palo che lì il portiere non ci sarebbe me è arrivato e siamo a posto e siamo a posto poi un'altra cosa che mi si fatto incazzare è che ragazzi sul 21 scusate sul 2 a 0 per noi sul 2 a 0 cioè avevamo smesso di giocare cioè tu vedevi sull'1 a 0 che noi cercavamo di fare un altro gol sul 2 a 0 ci siamo adagiati tranquilli passaggino se veniva fuori l'azione pericolosa bene o devi segnarne un altro di gol ma ti svegli cazzo la spagna sta vincendo 50 a 0 ecco questa è un'altra cosa che non mi è piaciuta quindi tra il fatto che avevamo fretta e il fatto che dopo subisci gol che ragazzi l'unica partita in cui una partita in cui non dovevamo subire gol e niente era il fatto che che cristo santo non è non non vai per segnare il terzo gol no vai con calma ragazzi a me la fastidio va bene stanno vincendo ma l'atteggiamento che non va bene non va bene anche perché forse ci hanno anche graziato perché forse il gol quello il secondo di cutone forse era anche uscita la palla io non ho visto bene le play si sa che la palla deve uscire tutta completamente quindi anche se c'è solo un pezzettino di palla sulla linea è buona io non ho visto le play di quando uscita quindi non so dirvelo però forse potrebbe essere uscita però il bar non so che cazzo hanno visto può essere che magari c'era un pezzettino che era toccava sulla linea non lo so questo però l'atteggiamento in generale a me non è piaciuto molti giocatori non mi sono piaciuti locatelli pellegrini faceva una roba bene e una roba male mancini non lo so manco io come io non riesco ad inquadrarlo poi ragazzi parliamo dell'altra partita c'è una squadra che fa sei punti ragazzi ragazzi sei punti sei punti sei punti in due partite sei punti in due partite e ne subisce due mi pare con te ne ha subite contro contro il belgio ne ha subiti due ok ma due una squadra in un europeo under 21 che su due partite fa sei punti io non ci credo mai che tu mi prendi cinque gol tu mi prendi cinque gol cinque perché poi ho visto due o tre gol li ho visti è il gol su punizione imbarazzante è imbarazzante non ditemi sì lui il calciatore tira bene per amore del dio tira bene ma ha preso gol sul suo palo ragazzi ha preso gol sul suo palo adesso li sto vedendo i gol ha preso gol sul suo palo cioè una roba incredibile tu non puoi andare a buttarti da una parte senza sapere dove tira la palla questo se tu prendi fai il passo verso dall'altra parte e questo tira sul tuo palo e ti fa gol ma poi sto vedendo i gol gol 11 su anche deviazione vabbè ma anche la polonia si difesa ho visto che sta difendendo anche con la spagna è però vabbè anche questo ragazzi ce li hanno lasciati praticamente ragazzi non si sono po guarda questo col qui non si è opposto nessuno erano in tre in tre davanti nessuno si è opposto tre centrocampisti con tre difensori dietro nessuno si è opposto il gol su punizione tirato sul suo palo ti sei fatto prendere gol sul tuo palo portiere mio vabbè lasciam stare l'altra partita vabbè ragazzi siamo secondi e facciamo anche un mea culp perché la colpa è soprattutto nostra perché con la polonia non si può perdere così a fare 20 tira 0 gol non si può assolutamente quindi soprattutto mea culpa dovevo fare dovevamo almeno pareggiarla ma era era da vincere per la partita punto dopo aver vinto con la spagna le altre due tre dovevi portare in cassaforte senza sé e senza ma punto comunque adesso tocca sperare negli altri quindi domani domani alle 9 tutte le nuove giocano domani ci andremo a vedere austria germania e da rimarca serbia lunedì ci andremo a vedere lunedì se se l'italia non è già fuori dopo domani lunedì si andrà a vedere francia romania sperando che non pareggino e croazia inghilterra andremo a vedere a sperare negli altri e a sperare negli altri va bene ragazzi credo di aver già parlato troppo per quasi dieci minuti noi ci vediamo un prossimo video e speriamo nelle tanto speriamo negli altri risultati che almeno un po di culo ci arrivi anche noi poi vediamo ragazzi la nazionale femminile tanto tra un po mi sbloccano pure le live finalmente quindi ciao ragazzi